Mi sono guardato un pochettino questo capitolo 3, mi sono guardato quello che effettivamente poteva succedere e i possibili tecnicamente finali, anche se in realtà il finale unico è questo. Quindi in realtà è la storia che prosegue così, ci sono soltanto delle piccole modifiche, ci sono soltanto dei piccoli accorgimenti che comunque si possono fare all'interno della run per avere delle interazioni diverse con alcuni personaggi. Infatti se vi faccio vedere le scelte dell'episodio 3, iniziamo da questa parte dove Daniel in questo caso già mi trattava già con distanza perché comunque abbiamo impedito di utilizzare i poteri e non abbiamo salvato Chris, quindi di conseguenza lui già qua mi aveva allontanato. Poi si era legato molto con Finn, quindi diciamo che io ormai avevo preso un posto non così rilevante. Però c'è da dire che ancora Daniel mi ascoltava, quindi la situazione non era peggio perché addirittura in run dove proprio Daniel ha un odio nei confronti del fratello Sean non lo obbedisce proprio. Mentre io invece quando comunque davo degli ordini o comunque dicevo a Daniel determinate cose, lui brontolava un po' però effettivamente mi ascoltava. Quindi diciamo che la mia situazione era un pochettino 50 e 50. Poi qua siamo rimasti sobri, questa è un'altra cosa importante perché se eravamo strafatti praticamente avremmo confessato successivamente se fossimo rimasti qui praticamente al falò anziché andare a letto con Daniel fossimo rimasti qui nel focolare avremmo parlato praticamente con gli altri ragazzi e avremmo potuto confessare che ci piacciono sia i ragazzi che le ragazze. E quindi qui si poteva aprire praticamente una strada verso quello che poteva essere appunto il bacio che poi ci sarebbe stato con Finn oppure la storia che avremmo potuto proseguire con Cassidy. Poi vabbè questo non cambiava tantissimo, cambiava semplicemente il fatto che Finn poteva farsi avanti e quindi si faceva colpire da Big Joe e quindi prendeva più punti di stima da parte di Daniel. Poi successivamente se qui ovviamente non siamo d'accordo con la rapina la storia con Finn praticamente si chiude mentre invece vedete tu e Finn siete rimasti amici mentre invece se io avessi accettato di fare la rapina avrei tecnicamente sbloccato anche la route per il bacio con Finn e tecnicamente sarebbe nato esattamente il trono di spade perché ci sarebbe stata appunto la storia tra Sean e Finn poi qua non mi sono fatto il tatuaggio, questo in realtà cambia poco in realtà perché non cambia tantissimo e abbiamo andato... siamo andati anche abbiamo andato stavo chiedendo siamo andati al lago e siamo stati con Cassidy mentre invece se ci fossimo baciati con Finn non avremmo potuto raggiungere Cassidy al lago e poi infine qui Cassidy ovviamente non se l'è presa con me perché la rapina non l'ho accettata quindi di conseguenza non aveva nessun tipo di problema sì però da me è esatto c'è la pioggia però tutto a posto quindi fortunatamente ancora sono a posto se mi vedete che si staccano tutte cose all'improvviso sapete perché esatto quindi ci tengo anche a dirvelo e buonanotte qui praticamente avrei potuto baciare Cassidy qui purtroppo ho sbagliato io la scelta perché avevo sbloccato la route giusta per baciare Cassidy perché se le avessi detto che mi piaceva quindi non il fatto che ho detto eh vabbè facciamoci desiderare e invece l'avrei dovuto dire avrei dovuto dire che mi piaceva se le avessi detto così avrei sbloccato il bacio e poi successivamente sarei andato nella tenda di Cassidy ed entrare nella tenda di Cassidy implicava soltanto il il manz esatto la prestazione che già tutti sappiamo che ovviamente non andava un granché perché mi sono visto anche quella parte però vabbè niente di niente di particolare poi qui ho capito praticamente che si poteva fare sia senza farsi notare però senza farsi notare bisognava accettare di fare la rapina perché bisogna sfruttare i poteri praticamente di Daniel per evitare che Big Joe ti possa sentire e ti possa inseguire poi potevamo anche svegliarlo e farci seguire da Big Joe e invece io ho sabotato per non farmi seguire poi qui ovviamente la storia poi è stata chiusa perché praticamente le uniche cose che cambiavano erano il fatto che avremmo aperto la cassaforte per prendere la pistola vedete infatti questo è un finale che veramente in pochi hanno fatto infatti come potete vedere soltanto il 2% è riuscito a concludere questa sezione proprio perché è difficilissimo per mettere infatti sono sicuro che a prima run sicuramente nessuno è riuscito a compiere questa route dove appunto si poteva entrare in casa di Meryl senza farsi notare e successivamente prendere la pistola dalla cassaforte perché dentro la cassaforte si aveva la possibilità appunto di prendere la pistola una volta presa la pistola avremmo potuto sparare a Meryl e Finn sarebbe morto quindi tecnicamente se io avessi sparato a Meryl avrei ucciso Finn poi Daniel ha usato il potere e Finn non è stato ucciso questo è il finale penso più classico non ho fatto niente e Finn non è stato ucciso oppure non è fatto niente e Finn è stato ucciso quindi Finn tecnicamente poteva crepare oppure no e quindi praticamente diciamo che qua le strade potevano dividersi o col fattore che Finn potesse morire o con Finn che non potesse morire e qui purtroppo Cassidy si è fatta male perché alla fine del tutto si è fatta male però c'era anche la possibilità di non farle fare male quindi sì diciamo che è stato un po' particolare e adesso vediamo effettivamente cosa cambieranno tra l'altro ho letto questo purtroppo un piccolo spoiler l'ho subito che nel capitolo 4 e 5 ci saranno tecnicamente altre interazioni con i salvataggi di Life is Strange 1 almeno ho capito così e poi non so se effettivamente è vero oppure no però dovrebbe essere così dovrebbe essere così e infatti sono curioso anche di vedere quali saranno queste interazioni non ho letto ovviamente cosa sono però volevo vedere effettivamente in che cosa consistessero per esempio la prima era quella di Arcadia Bay se l'avete notata nel primo capitolo che praticamente era sopravvissuta quindi non era stata distrutta mentre invece si sarebbe visto che praticamente era tutta distrutta se avessi sacrificato Arcadia Bay eccetera eccetera comunque detto questo continuiamo e vediamo adesso che cosa succede ci eravamo lasciati con Sean che era praticamente ferito a un occhio perché gli era entrato del vetro praticamente dentro l'occhio una cosa del genere non ci sono i comandi vocali non li metto con Life is Strange perché poi la ricarico su YouTube poi domani gli mettiamo i comandi vocali con Opera Omnia e hanno bisogno di andare a correre è quando il grande figlio ha scoperto che il grande figlio non è un uomo ordine ma un super uomo hanno scoperto hanno scoperto una scoperta di scoperta dove potremmo entrare giorno e giorno erano felici ma il grande figlio è molto morto e hanno bisogno di andare a correre gli fratelli sono stati in casa e i vecchi uomini li ho scoperto e i vecchi uomini infatti i cittadini erano suonare e li ho trovati gli fratelli non avevano niente quindi hanno deciso di continuare a andare suonare e i vecchi uomini i vecchi uomini era più e più confidanti e indipendenti i vecchi uomini i vecchi uomini avevano un nuovo pack per provare con gli fratelli si è libero per la prima volta sono stati e i vecchi uomini i vecchi uomini che ha avuto la terra cercano a scoprire i fratelli i vecchi uomini i vecchi uomini è morto è trasformato in un super uomini e destruo tutto i vecchi uomini 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 non sapevo dove il piccolo uomini era esatto il problema ora è questo che è stato ferito all'occhio praticamente tra l'altro Daniel è scappato ora quindi non so se effettivamente manco dove si è finito Daniel Daniel oh con i capelli tagliati scusa ma questo è un flashback che sembra vedi sono insieme mi sa che è un flashback hey sean i'm sorry i didn't mean to it was a bad idea daniel no way it's all good wish i listened when you tried to stop me from going with fin i was too pissed it's okay dude you're my brother and that's all that counts so why don't you come get me no lo sta sognando forse come perché non viene a prendere dove cazzo ti vengo a prendere i don't know what to do i'm scared don't get so close to that edge please come get me yes i swear stop oh certo giustamente ferito minchia è un ospedale e la polizia non l'ha preso strano un ospedale nella california del nord due mesi dopo l'esplosione a casa di mary due mesi minchia quindi è da due mesi che daniel è da solo madonna sai che cazzo ha combinato fuck daniel sono uscito dal coma lettera di chessity ho la shon gli sbiri e i dottori non mi hanno voluto dire quasi niente di te fin a parte che siete stati feriti e che siete sotto custodia della polizia è così che ho scoperto il nome dell'ospedale hanno parlato con me anna e penny o meglio ci hanno interrogati e poi ci hanno lasciati andare immagino che tu non sia stato così fortunato o magari te lo sei meritato spero che tu stia bene dopo quello che è successo probabilmente te l'hanno detto ma io anna e penny siamo stati rilasciati senza accuse gli sbiri erano troppo concentrati a fare un blitz in una piantagione gestita da dei trafficanti per occuparsi di noi panca bestia che lavoravamo la terra abbiamo chiesto di te e daniel ma non ci hanno detto niente ma va senza di te fin la nostra famiglia di vagabonti è distrutta adesso siamo solo un trio solitario che prende treni a caso senza una vera meta anna e penny non sono più gli stessi e litighiamo troppo non so se rimariamo insieme ancora per molto le cose cambiano no so che presto andrai in tribunale per quello che è successo a Seattle spero che tu ottenga un po' di giustizia spero che tu e daniel troviate presto la strada di casa uuuuh certo e infatti giustamente la polizia li ha presi in custodia perché in ospedale sanno adesso dove si trovano ma il problema è che sono fuggiti ora come cazzo fanno a giustificare che sono fuggiti non ho più la percezione sulla profondità certo ma chi ha perso l'occhio praticamente ce l'hanno operato all'occhio biglietto da visita di flores grazie per la carta agent departement of justice maria elena flores Seattle division uuuuh chiamami quando vuoi giorno notte se vuoi parlare ecco la la madonna che si fa vedere sono stato in coma per settimane sono cieco e fottuto più sotto custodia della polizia presto finirò in gattabuglia gli ospedali mi mandano fuori di testa ho provato a disegnare per passare il tempo questa stanza è una gabbia ma faccio schifo non ho il senso della profondità non ho ispirazione non ho un cazzo se mi concentro e mi crani assicurata questa chi è l'agente forse l'agente segreto speciale flores sta cercando di legare con me è per fregarmi o mi crede per davvero sono fottutissimo gli sbiri non sono ancora riusciti a trovare Daniel dopo l'esplosione buon compleanno Daniel ovunque tu sia è nano 15 aprile 2017 Claire e Steven mi hanno scritto una lettera molto carina mi sento così solo che l'ho letta due volte è strano ma mi mancano molto è bello avere notizie anche da Captain Spirit sono felice di sapere che sta bene ah meno male ah dai Chris sta bene il mio ritratto di Joy non è così male meno male che c'è lui ho fatto un casino con Daniel ho lasciato che Finn diventasse suo fratello eh vedi questo già è un po' più particolare che non c'è più niente da guardare comunque lui è praticamente accecato ok suoniamo eh vabbè sì che poi in realtà non è l'infermiere che si chiama ma c'è appunto l'operatore sociosanitario che viene a prendere poi viene a prendere poi il 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 del mangiare niente mi sono già impappinato ah vedi adesso vede soltanto con un occhio scusa ma se disegna lui non gli veniva mal di testa mi conviene disegnare so hard to focus eh gotta practice way not giving up I guess that's an ok start but I can keep going certo sicuramente perché non vogliamo fare un cazzo no se una prigione no disegna una scalinata star way to heaven semplicemente perché dobbiamo occuparci già dei pazienti quindi a dare da mangiare va bene ok è un discorso eccolo oh good day sunshine hey joey hey man That looks like it might have been food Hard to tell Ha ha Never heard that before Oh, somebody is in a bad mood Sorry Joey, not feeling it today I don't blame you But maybe I got something to cheer you up Pecans and chocolate? Uh oh There's that smile Thanks Joey So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No It's all good Well this is your final test before You know Before they Check you out Check me out, Joey Yeah Okay, let's see You know the drill Don't blink and just stare at the light Yes Nice retina response Okay Now Try to follow the light as well as you can Good Good Keep going Ma se non sei quella lampadina Nice Magari non mi dimettono se non sei quella lampadina Sean You got this Remember To see the object on your left side You gotta turn your head more now Yes Looking good Sean Now try to align your pen with mine I'll try No rush Tieni premuto eh Per fissare la visuale E Quando l'hai fissata Per vedere se la tua birro È allineata con quella di Joe Allora Fammi vedere Più o meno Dovrebbe essere qui No Allora È un po' più indietro È qui Ora è un po' più indietro È qua No Allora è qui No Fanculo Difficile cazzi Patiente di mess Patiente di mess Patient cleared Sent him right to jail Do not pass go Do not collect 200 dollars I always hated that game While I know it sucks for you but It's time we release you Sorry It's time we release you sorry It's time we release you sorry You know that you don't really have severe side effects anymore Yeah That's just great I do have to tell them the truth But first Let's clean this dress Hey Sure hope you're watching the door like your phone Come on We ain't going nowhere Great All I do is watch them Yes True Your job Do you mind if we talk alone Mind if I finish with my patient He looks good for now Right Just Come back when I'm finished with him Sure I'll swing by later Sean Stay cool Gli sto agli infermieri Quanto siamo spacchiosi So How are you feeling today Mr. Diaz Amazing Did you find Daniel? I want to Go over this again What? I've been telling the same fucking story for three weeks How much longer? Until it makes sense Until you get it right So Silence isn't gonna help you now Listen close Sean Tomorrow you're going to Jolina shore And you'll be arraigned in court For the murder of a Seattle police officer You might spend the rest of your life in prison Or you can talk to me I didn't kill anyone The end So Who did? You do know It's just I can't Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No No way And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer Are you shitting me? That officer freaked out and shot him In front of me and Daniel Just guilty of being Who knows I hear you but You're sure you didn't get upset and go after the officer? It happens Jesus No Look at me Okay Let's just Jump ahead Tell me what happened In that farm in Humboldt The place looks like a tornado Wiped it out I've told you so many times I have no clue why the place was trashed I passed out Plus three seriously wounded Along with you And A missing child Nobody's a statement Matches with each other Sean Throw me a bone here Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads You can help by telling me the truth Okay Fuck The robbery Whose idea was it? His Or yours Huh? Finn It was his idea to rip off Mero Did he force you to help? Or did you go along with it? He lied I didn't want to help But he got Daniel involved I swear Swear I didn't think anything like this was going to happen Nobody does Sean Until it's too late Yeah Now I know And what about Cassidy? No Ma no She was against this stupid plan She had nothing to do with it Your friends Are learning the hard way Non è question di essere sbirri È question che lui mi ha preso per il culo They didn't deserve it We all make mistakes Yeah Well Some mistakes are worse than others Proprio Lui mi ha preso per il culo E ora deve pagare Pezzo di merda Che la cosa che sto pensando È che se fosse morto Che se fosse morto Era un casino Perché non gli avrebbero creduto Dice scusa E tu dici Sì va bene È stata un'idea sua Ma chi ce lo conferma Che ora è morto Sorry Finn Sorry Finn Esatto Bravo Giusto She didn't want anything to do with this Wonder what Merrill told the cops about the robbery Sorry Hannah Hope the cops didn't mess with Penny A person Would fuck him up Vabbè meglio un nonno azzoppato Che un nonno morto Giusto Quindi Direi che non è andata così male Poteva andare anche peggio E poi dovevamo mantenere il segreto Quindi necessariamente bisognava azzoparlo E poi gli dà un fascino più vintage così Beh in realtà Ne mancano diverse persone all'appello Perché mancano i due I due svedesi là Quelli che stavano insieme E manca anche il coso Là il chirichetto Che il chirichetto ora è lo snitch di turno È l'informatore quello Quello stava indagando per la polizia Easy So what's going on with Daniel You really have leads Yes We do That's our job Fiburo put his profile out over four states So we are on the case For how long It's been over two months How are you gonna find him We have a lot of people looking for your brother Trust me We want to find him too C'è Pre-arrestato So you can lock him up too right Whatever Anyway Thanks for talking to me I'll be back tomorrow to take you to Jolina shore Mi sa che io ora qua devo scappare Di cussa Però sta bene con i capelli rasati La medicazione Sit down so that we can get this show going Vediamo quanto pus c'è fatto Scully go You mean interrogation? Who knows Maybe detective Flores wants to help Maybe not I just can't trust her After what you and your brother went through I don't blame you Oh this shit is all wrong man You've been out of the garden for three weeks now We talk every day I can see that you're a good person Thanks Joey Want to tell that to the judges? I'm just saying You don't deserve this Now let's check this out Oh Vediamo quanto pus c'è fatto The healing is coming along nice Just got to keep it clean for the next week or so Simple That's great Seen the shrink this morning What did she say? Nothing I want to hear This will take time and rehab Sean You have to process first I can tell myself that shit Clearly I'm no therapist But I've nurse patients with your injury They all turn their anger into energy You will too Vabbè dipende qual è la lesione No forse non lo perde Vedi e poi le ultime protesi I hear you I'm trying to be positive But it's so hard I know I do But I promise there's a treat coming your way Now as for your wound This is the last time you hear this from me You have to clean it with sterile gauze And saline solution Sì va bene che ti sei fatto le mani Ma senza guanti Senza niente Cope the area using the swab and cream Then wrap it up with clean dressing And you're the shit Remember You gotta do this Four times a day And I'll forget So now I'll have to clean it I'll have to clean it up And I'll have to clean it up And I'll have to clean it up You saved my ass here You're the only one I trust It really helped Cool I'm glad when I can make a chit Oh shit Emergency I'm out And no smoke break Let's say our goodbye tomorrow Oh Sean Check out that towel Got your name all over it Hmm Andiamo se mi ha dato un pass per scappare Non lo so se è questo il capitolo Che è effettivamente una bomba Però essendo prima di quello finale You are her boss Joey is the only one who helped me get through this shit Cioè qua ci sarà comunque il colpaccio di scena Ci sarà il mega colpaccio di scena Questo cos'è del souvenir Asciugamano Controlla Però aspetta Prima di controllare l'asciugamano Salvation Lies Vediamo se c'è qualcos'altro Che possiamo vedere La tv I disegni Yep Ma Ci sarà Sì qua ci sarà proprio il colpo di scena Che ti Che ti taglia la testa Lettere Di chi Maybe I should have let Daniel help Stephen Sean è un sollievo sapere che sei sveglio e cosciente La polizia ci ha contattati non appena ti hanno trovato Privo di senso nella contea di Humboldt Volevamo venirti a trovare un ospedale Ma la gamba di Stephen doveva guarire dopo l'operazione Finalmente è ricominciata a camminare Speriamo che anche tu guarisca presto I dottori dicono che ti sei risvegliato dal coma Ancora più forte di prima Allora la cosa più importante è trovare Daniel Stiamo cercando di aiutare la polizia Anche loro vogliono aiutarci a trovarlo Sean spero che questo influisca positivamente sul tuo progetto Sappiamo che deve essere dura per te Ripreghiamo per voi Verremo a trovarvi il prima possibile P.S. Chris ha insistito per scrivervi un pensierino Lo trovi insieme a questa lettera P.P.S. non sa che Daniel è disperso Vabbè però sta camminando Inche pensavo decisamente peggio Ciao Sean e Daniel Come state? Io sto bene Ma mi mancate un sacco Dopo l'incidente ho tenuto il gesso per tanto tempo Sono stato intrappolato in camera mia per tutto l'inverno Uffa Ma adesso è iniziata l'estate e posso giocare di nuovo Perché non c'è più la neve Dovete tornare a vedere Beaver Creek senza la neve Vi aspetto Chris e Captain Spirit P.S. dobbiamo salvare Beaver Creek dagli insetti della paluta Ah sono contento che Che Chris stia bene P.S. dobbiamo salvare Beaver Creek dagli insetti della paluta Tutto a destra e c'è un'uscita le scale per scendere Ok Qua cosa c'è No non lo fare che lei ha appena medicato Merda Merda Questo non lo dovevamo fare Eh vedi mi sa che lui l'occhio l'ha perso veramente Ah il suo vecchio diario Sì va bene l'album da disegno I know I fucked Daniel over Again And now he's gone Where would he hide out? A ten year old by himself? Out there? He might go back to Seattle But too far Nowhere to go If he tried to hook up with Claire and Stephen She's a nun They would have definitely told me Or the cops Wait What's that? Superwolf Huh? Does that mean It means that Daniel Daniel is with Jacob somewhere He's safe I could see him again Huh? Ho bevuto qualche birra Daniel sta dormendo Come ogni sera Vuole allenarsi di più Ma non abbiamo tempo E poi dobbiamo nasconderci dagli altri Non è facile Sean Ho preso in prestito una coperta E un paio di cose dalla tua tenda Te le ridò appena vieni A riprenderti il tuo fumetto di superlupo È qui che ti aspetta Jake Jake Se l'è portato lui? Ecco il cane Nooo Idolo Cassidy la selvaggia Contro Hannah la selvaggia Ah ma loro sono tutti insieme No questo è il disegno che ha fatto Che ha fatto lui Io? Un coso grosso come una casa a due piani Ciao Ravenc Questo è il disegno che abbiamo fatto là nell'accampamento Ma no no aspetta Scusami Ma queste sono cose vecchie Allora non può essere Serata a tema Tagliati le vene Abbiamo condiviso i nostri ricordi peggiori Ma queste sono cose vecchie Non ha senso È Daniel che gli ha scritto Perché queste sono cose vecchie Porca puttana Sono l'uomo di Daniel ha fatto di nuovo casino Devo risolvere questa storia Sono stanco di scappare È Daniel che gli ha scritto Sean E vedi È lui Aspetta Jake E appunto Jake l'ha preso lui Ho preso in prestito una coperta E un paio di cose Dalla tua tenda Te le ridò Appena vieni a riprenderti Il tuo fumetto di super lupo Cioè nel senso Vai a riprenderti tuo fratello È qui che ti aspetta Jake È Jake che se l'è portato O è insieme O è insieme a Jake Cioè nel senso Daniel è finito insieme Insieme a Jake Comunque sono insieme Praticamente Infatti il fumetto di super lupo Inteso come Daniel Ok Questo vabbè si capiva Nel senso che Daniel è insieme a Jake Quindi Jake top E non lo so Saranno scappati insieme Non ne ho idea Questo poi Avremo la possibilità di A meno che Jake Effettivamente sia Voglio trovare la pagina Su quello scritto di Jake Haven Point Nevada Sono arrivati Eh infatti ho parlato molto con Jacob È un ragazzino È cresciuto in una specie di comunità religiosa A Haven Point In Nevada Che lui aveva mandato il messaggio Per la sorella E tutte quelle cagate lì Quindi se ne è portato In Nevada E come cazzo ci arriva in Nevada E vedi lo sapevo io Che doveva scappare È per forza Eh Se no è finita Qui deve andare ora in Nevada Sì Una parola Fuggi dall'ospedale Interessante Qua mi posso calare dalla finestra Classico metodo Da carcerato Ma veramente così si vuole calare Infatti le fieste sono bloccate I hope my last view of this world Isn't this window One stupid car And I'm out of here It's dead tonight Works for me I could climb down the side of the building Or die trying C'è nient'altro da guardare La macchina No Di aprire Mi serve qualcosa Beh intanto raccogliamo le lenzuola Me le metto su per le natiche Là in tasca se ne mette Sì Bello In tasca Ottimo Tra la stanza e ristrutturazione Stanza del personale E la guardia Poi lo sto addormendo Chiedi delle medicine Diciamo che ho bisogno di un aspirin O qualcosa E' una tra strappo Farbbe casino Esatto Quindi devo dire alla guardia Di andarmi a prendere le medicine In modo tale Da farlo allontanare E strappare Creare un corpo finto Carina l'idea Eh però forse Non dovevo farlo adesso Devo farlo Qui là E c'è il campanello Perché io poi Prendendo la cosa Posso Posso spaccare Praticamente Eh però il problema è Come fai a uscire poi Dall'impalcatura Oppure uscendo dalla porta E calandomi dall'impalcatura Allora la tenta Per ora Non la tiriamo Allora Facciamo così Chiediamo le medicine Altizie Ehi Sì Sì Posso prendere un nap Ok Cosa è Sì La città Ho bisogno di aspirin Sì È una storia Ma Non sono Una farmacia Pid Bastardo I can To Tutto Coming in And then No Knock him out No I could No Tr Presidential Into coming in And then No 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 Knock him out Let's see I just gotta get Past that lock door e un giro Joey potrebbe probabilmente distrarre il guard dog non però non credo che non credo che lo distrerebbe potremmo provare ma maybe il problema è che lo metterei nei guai lo metterei nei guai non se lo merita poverino allora se strappo lì faccio troppo casino e lo sente lo sbirro quindi dovrei tecnicamente farlo andare via però secchiamo Joey cosa succede è che però ho fatto il corpo finto quindi lui già vedrebbe il fatto aspetta posso ricaricare esatto facciamo così vediamo da dove mi riporta dovrebbe riportarmi qui dalla zona della stanza immagino esatto ok allora le lenzuola non prendiamo niente la finestra teniamola chiusa allora guardiamo il campanello poi guarda sotto il letto non c'era nulla ok poi la tenda non la tiriamo non c'è bisogno qui guardiamo di nuovo la guardia è già sveglia bene poi esatto questo è fissato bene ok qua spegni le lenzuola lasciamole oppure aspetta le lenzuola le posso prendere in realtà forse perché così posso fare credere che non ho le lenzuola e quindi potremmo andare Joey a prendere le lenzuola e quindi allontanerei anche lui insieme alla guardia la finestra di aprirla si deve aprire o con con la maniglia allora prendiamo le lenzuola soltanto in modo tale che così le lenzuola non ci sono ok quello le medicine non me le va a prendere giusto perché forse si è addormentato vediamo no è ancora sveglio va bene allora a questo punto visto che non ho aperto né finestra né niente chiamiamo Joy faccio trovare qua guardo tipo la finestra tipo romantico vediamo che cosa mi dice perché tecnicamente vedendomi così io posso dirgli che non ci sono le esatto ok problema ma è che mi potrei dire effettivamente qual è la verità però lui non mi può aiutare non ma ho mare כło che non bene che posso un painkiller no è chỉ ho voglio un sacco adiciniamo potre un po' cammino credo ti amo che è il suo giovane va per crash per si per anna chiamate Joey ho bisogna fuori lo come 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 Eh. 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 Just. He's ten years old and out there, all alone. He needs his big brother. Sean, I wish I could help you. I swear, but I can't do this. Joey, please. Look, it's not fair to ask me to give up my job and my life. To maybe possibly help you escape. I know, I'm just desperate. Let's forget about this, okay? I'll do anything else I can to help. Now, I really gotta get back to my shift. I'm tired already. Eh, queste sono cose che purtroppo succedono. Ora qui giustamente la situazione è seria. Perché qui la situazione è grave. Però... You have a good night, Doug. Però il problema è che... Ah, jeez. I fucking hate him. Perché poi ci sono i parenti che vogliono entrare. Il paziente che vuole... Che vuole farsi per forza la passeggiata. E quindi tu proprio delle volte è vero che comunque sei gentile. Tutto quello che vuoi cerchi di aiutare il paziente, cerchi... Però ci sono quelli che se ne approfittano. Che sono un po' stronzi. Bingo! O forse no. Too bad this isn't a movie. Can't even fit. No. Niente bingo. Quindi... Eh... Qui si potrei creare il corpo finto ma... La finestra non si apre. Non sarebbe una cosa molto carina. Allora, riguardiamo di nuovo tutte le cose che c'erano qua. E io sono qui. È morto oggi. Si funziona per me. Poi potrei entrare in una di queste ruote sotto la costruzione. Esatto. Il problema però... Il problema è uscire. è certo pretty. Commoditi, che tu potrei cercare le cose che sei giusto f bricolino делать su queste ruote. Ma anche se lo dovessi tirare non è che cambia molto. Se prima non... Se utilizzo la sbarra, è un casino. È difficile... La guardia sta dormendo La guardia sta dormendo e quindi mi stai dicendo che posso strappare questo? Mi sa che è una cazzata quella che sto facendo Sì vabbè si è messa nel curo Ecco Ok qua spegniamo Ecco voglio sapere cosa è cambiato Niente è cambiato che praticamente non mi vedono Rompi la sicura ma farei casino qua Non mi credo proprio Cioè no a sto punto voglio fare il test Vediamo quanto casino facciamo Minchia È una cosa fallimentare questo Oh forse non mi ha sentito Minchia non mi ha sentito O forse non mi ha sentito Minchia non mi ha sentito Boh Buongiorno 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 Non mi ha sentito Non mi ha sentito Solo Minchia non mi ha sentito E poi Let's go Salve Oh Oh merda Ora lui che non ci vede bene Minchia continua torna indietro No continua Eh Eh, torna indietro Cosa conclude Non è che tanto dalla stanza non può uscire Vedi Eh, 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 eh E giustamente, minchia, l'ansia L'ansia è a 3.000 Sì, ma il problema è lo zaino e tutto il resto Come, come lo dovrei Come lo dovrei recuperare Vai, dice, la guardia che sta dormendo Ok, la guardia sta dormendo Questa è la tua grande chance Ah, si deve portare ora le cose per medicarsi l'occhio, no? Uh, merda Il problema è, come scendi? Riesci a scendere ora dall'impalcatura? E' finno No, no Non lo svegliamo Dopo che io ho detto che l'idea era sua Non credo che abbia tanta voglia di Di stare con il mio compagnia Aspetti la macchina è aperta Certo, magari il film poteva venire con me Tipo lo portavo con me Però Troppo rischioso Sì, vabbè La macchina è aperta Trovata Va bene che è il parcheggio di un ospedale Mi chiama la macchina è aperta Vuoi vedere che questa è la macchina di gioia, poverino Lui sapeva guidare? Non mi ricordo lui sapesse guidare Vabbè, ha quasi 18 anni Ma non credo che Uh Ansia Vabbè, tecnicamente con la macchina ora ci puoi arrivare Lì, da tuo fratello Cioè, a meno che non ti si sfasci la macchina Ma Garantito Te lo immagini quella sua, mischino Certo, ora lui scappando Aia Un bel casino Vado, sei stato un misceno Che scemo Come fai ad addormentarti alla guida? È praticamente impossibile Oddio Ma sono io che devo guidare? No Cioè, io quando guido Anche se ho sonno Che tipo Capita che comunque sai Esci Fai un po' tardi la sera Quello che è Cioè, non mi viene mai sonno Quando mi metto al volante Cioè, anche se sono tipo Al volante E Niente Appena mi metto al volante Il sonno mi passa all'istante Cioè, anche se prima tipo Sto morendo Che dico No, ragazzi Ho troppo sonno Nel momento in cui mi siedo in macchina E prendo il mano Il volante Proprio mi passa tutto Anche perché mi piace guidare Fondamentalmente mi piace Poi dipende Se sono io che Mi secco A uscire O meno Ma in realtà mi piace guidare Beh sì Dopo ore che guidi Sì Ma più che altro Non è che ti viene sonno È che proprio ti stanca la vista Quindi Giustamente gli occhi Hanno Dato che tu comunque Devi stare attento alla strada E stai concentrato Sulla strada Proprio hai l'occhio Che si stanca Ma non lo considererei Un vero e proprio sonno È proprio l'occhio stanco Che tu ti metti lì Lo chiudi un pochettino Lo rifai riposare E via Poi ovviamente Ci sta Il colpo di sonno Cioè magari Per chi è anche Abituato a guidare E fa Tanta strada in macchina Soprattutto Per parecchi giorni Anche tipo Che ne so Guidi tutti i giorni Tutto il giorno È normale che poi Ti abitui alla macchina E quindi ti viene Il colpo di sonno Ci sta Però dico Per una persona Comune Che guida il giusto E che fa Comunque Il Diciamo Il minimo indispensabile Con la macchina Cioè che si sposta Magari di qua Di là Che fa quelle cose Almeno Per me è così Cioè non mi viene Il Non mi viene Il colpo di sonno Proprio perché Appena guido Mi passa tutto E vedi Lui è arrivato Praticamente Lì In Canada È in Nevada Scusate Anche in Canada Già sto dormendo Ma il problema È la benzina Come fai a pagartela Senza soldi Quindi mi sa Che lui abbandonerà La macchina Appena gli finisce La benzina Cioè ci sarà il momento In cui finisce la benzina E via Si ritorna a piedi Anche perché soldi Non ne ha Cioè penso che i soldi Che aveva Guadagnato lì Con lo spaccio Cioè con lo spaccio Lavorando lì nel campo Sicuramente Gliel'avranno Confiscati Cioè la polizia Sicuramente Gliel'avrà confiscati Quindi è senza Senza un centesimo E poi ci voleva Cassidy Per esempio Con me Se ci fosse stata Cassidy L'avrei svegliata L'avrei portata Con me Easy Mi sarei fatto Perdonare Per quel bagno Al lago Dove Non ci ho trovato Indicatore del carburante Ecco vedi Esatto Di una fumatrice Ma perché è una donna Ah cose della proprietaria Ah non è la macchina Di gioia Cosa da fare 8 maggio Lascia i bambini a scuola Visita in ospedale Pranzo con il mio Bel maritino Raggi Esame del sangue Signora Scott Vai a prendere I bambini Turno di notte Inchia Mischina Come on Ah 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 Ha lasciato la Cazzo Ha lasciato la cosa Oh Grande Luca Non lo segna What Ma l'hai fatto adesso Oppure L'hai fatto L'hai fatto Prima Cioè L'hai fatto a parte Adesso No Non ci credo Che non l'ha fatto Andiamo Aspetta Andiamolo A vedere Direttamente No no Ma si vede C'è anche lo stemmino No Brutta sta cosa Perché Forse perché mi sono scollegato Da streamlabs Effettivamente Si Mi ero scollegato No 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 Segna tutti Tutti i mesi Segna Le sub No Sai perché sono io Che mi sono scollegato Da streamlabs Perché ho Che ho formattato Il pc Quindi ho perso Praticamente Il login Ho perso le cose Devo rifare Tutto Tutto Da capo Ah però qua non me lo dà Strano Perché non me lo dai No ma devo capirla sta cosa Perché effettivamente Perché agli altri si No ma mi dispiace Perché è bello Effettivamente Vediamo se lo trovo Da qua Magari Qualcuno subì Per prova Grande Playo No ci sono rimasto Malino Facciamo così Dai Questo è un test Vedi funzionano This is a test Sì sì Funzionano gli alert Strano che però Non me l'abbia dato Veramente strano A volte è successo Che anche ad alcuni Non Che non l'ha fatto vedere No no Però le notifiche ci sono Dai Le notifiche ci sono Su questo sono sicuro Perché capita Che comunque Vediamo Provo ad aggiornare La pagina dopo Vediamo se magari Me lo segna sempre Tra gli eventi Anche perché qua Per esempio Proprio non me lo segna Proprio tra gli eventi Ma l'hai fatto col prime Oppure l'hai fatto a parte Perché forse Boh non lo so No ma penso che No ma penso che l'hai fatto a parte Perché lo stemma prime Non c'è quindi Ah con prime Strano allora Che non l'ha fatto Allora aspetto Vediamo se No ma non me lo dà Tra gli eventi Non me lo dà proprio Tra gli eventi Strano sta cosa Va bene Lo provo ad aggiornare Dopo Vediamo se magari adesso Facendo il login Da sito web E non da applicazione Me lo aggiorno Devo comprare casa Fai benissimo Va bene Allora Torniamo indietro Prendi il biglietto Di Eh prendiamolo Non lo sa mai Potrebbe essere Ah Nuovo souvenir Ah era il souvenir Quello Ok E' Ancora qualche ora Ok Va bene amico mio Lo zaino Penso che mi faccia vedere Le mie robe Ah no Devo medicarmi L'occhio Certo Giusto Lo devo fare Quattro volte Quattro volte al giorno Devo farlo Eh può essere che queste minchiate Forse cambiano il fatto Di perdere l'occhio o meno Magari Beh effettivamente Non è stata un'idea Non è stata un'idea Così intelligente Vabbè per il resto Ho guardato tutto Quindi in realtà Ok dormiamo E fa il pirata E' vero Con Cassidy E' fatta Se rimango tipo Così E' fatta Con Cassidy Il fascino Del tenebroso Easy proprio Ok dai Finiamo la benzina Scendiamo E ce la facciamo a piedi Facile facile No Me la da per pietà No Mai prenderla Per pietà Oh Ah ok Sta sognando Io questo Non l'avrei avuta mai Allora era una macchina Così È That makes up For when you bullshit me About needing cash E' I'll try to be cool No dad jokes Ah I hope you're not too bummed out To go on a big road trip With your lovely papito Ah 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 Please You're the coolest dad How could I be bummed Excuse me Ah, ah, ah! Where's my regular, emotionless son? Ahahi! I appreciate it. Think we can hang out for five days without killing each other? Hell yeah! Haven't done that since I was a kid. Messy. So do I. Been too long since we went, Padri'i hijo against the road. Way too long. I love road trips. Buono ascolti. Poi, boitok, cosa succede con quella genna, eh? Ah, no, non c'è molto a parlare. C'era come pulire le pezzi. Beh, ho una settimana per cercare la verità. Non è bene, non ti preoccupi. Non c'è nulla a dire. Ok, ok. Keep your secrets to yourself. I won't cry. Ah. Could that be Daniel? Hola. Hello. Everything ok, Layla? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Ok. Ah, he's an angel. We went to the swing pool and now we're making popcorn for the movie night. Yes. It's so cool. Hey, Sean. Don't crash the car. He's driving real slow and safe. Like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. Layla, you ready? Sounds good. And Sean, Jen wants you to call her. When you have time. Oh, ho, ho. E Layla con Daniel da soli. No, vabbè. Scherziamo. Si gioca. Si scherzi. Si scherzi. What are you doing? Hmm. Well, sometimes I just miss our home. Our family. Now I feel like I'm going in reverse. I went through the same thing. It's never easy to leave your home. Or family. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to Rome. And find your way home. God. I... I love you, Dad. Wish I would've told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Boom. By the way, Sean. Hey, wake up. Huh? I... What? Yeah, what the fuck are you doing on our property? Huh? Oh, man. I crashed hard. Oh, yeah? Come on out, boy. Who the fuck is that? The fucking kid. Get out. Look. I'm leaving, okay? Uh, no, you ain't. Step out, or I'll call the cops. You don't want that, boy. You deaf? I said, out. Ah, minchia, non mi hanno lasciato il tempo di decidere. We don't need cops to deal with assholes like you, anyway. Listen, I don't want any trouble. Too late for that, boy. So tell us what the fuck you're doing on our land. I... drove for so long, I... I had to pull over to get some rest, you know? I swear. I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't you see it? I... I... was too exhausted. I guess I missed it. He's just a kid, and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? I... got into an accident. Oh, yeah? Uh-huh. 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 I see it. I just want to go. Oh, oh. What's this? Drugs? Yeah. For my eye. Oh, yeah? Did you steal them? Like this car? Well... I lost my keys and my friend helped me start you mean you how are it holy cow fucking car thief to take his backpack dude come on get it let's see what he's holding Che palle ma non ho la sbarra di ferro che mi sono preso dalle dall'ospedale Eh questo Minchia già che già che è ferito mischino Certo te la prendi con un ragazzino ferito Che sei proprio Che grande uomo Spanisch pedro Huh what what hablas espanol Chad so professor how do you say I'm a dirty thief Don't do this Oh you don't want to share your language Okay maybe you know this one Uh I'm a dirty thief with one eye No just stop please Figures you come here to steal but don't want to give back All I want to do is learn espanol Might be our official language someday right Si senor So one more lesson How do you say This is not my country I don't know Told you Well that's the only one you should know boy Learn it Look Chad It's gonna rain Let's go before we get soaked Hold on This little thief is fucking with me You're really pissing me off You know that But I'm willing to give you one last chance to make things right Sing something What? Just pass the audition And you're free We'll be very upset if you refuse Panculo Canta da solo Stronzo No Really? Okay I warned you boy Stop Stop it Chad What the fuck man? What the Holy cow What are you doing? Listen you little beaner Get your shit And go Now Look Just drive straight And you'll hit the highway Forget this happen man Okay? Ma investilo con la macchina Fai il giro e lo investi con la macchina E a sto punto Ah però non gliel'ha preso l'occhio ferito Gli ha preso l'occhio quello buono Ma secondo me lui lo spagnolo lo sapeva In Nevada Se non ricordo male lo parla nello spagnolo Quindi se gli avessi detto una cosa del genere Lui avrebbe capito che Che lo stavo insultando Dopo pirata Anche perché se non sbaglio Nevada Proviene proprio dallo spagnolo Perché Nevada L'avevano spiegato Forse se non sbaglio nel film Il padrino Era praticamente La città La città in Nevada Che si dice Nevada Però non ne sono sicuro E' Ah si comunque effettivamente la sfiga di shon è pazzesca ecco e ora siamo nuovamente è infatti nevato in spagnolo vuol dire nevato solo che però per quanto riguarda questa zona americana non ha a che fare con la neve perché il nevato è un deserto nel senso è una landa desertica c'era la catena montuosa è appunto esatto dalle montagne che attraversano lo stato esatto la catena del nevato che hanno dato il nome alla zona scusa dove dovremmo andare m è distrutto praticamente però vedi la lavagna almeno sono riuscita meno sono riuscito a prenderlo ma c'è una specie di tombino vabbè è rotta la lavagna però diciamo che secondo me basta il fatto che comunque se la sia portata dietro per il fratellino piuttosto che lasciarla lì è come se lui tipo ci tenesse lo stesso esatto posso usare le schegge come come arma adesso dai che là c'è l'ombra non c'è l'ombra non c'è l'ombra non c'è l'ombra che qui grazie momento di segno madonna mi ho tipo uno scorpione cosa del genere tutto sudato anche ci sarà quella garza che farà schifo è un certo ma posso continuare credo che posso spiega le cose un po' e rendere tutto più divertente l'inferno o l'oasi no l'oasi dai a meno a meno nel deserto metti l'oasi no l'inferno mi sembra un po' esagerato troppo troppo pessimistico giustamente sforzi un occhio solo è normale che ti faccia male 22 miles ahead casinò e possiamo diventare ricchi ci giochiamo quei 20 centesimi che diventeranno 2 milioni non ci possiamo entrare tranquillo ti facciamo vedere che siamo siamo big wolf e ci fanno entrare e che è ancora distrutto poi c'è un coyote lì mi sembra che non l'ho mai visto in anni ovviamente mi missi tutto o merda anche il suo sforzo sì puoi aspettare per arrivare a casa ora sei e ci fanno e ci fanno veramente il pensiero era andare alla festa animale morto gli posso dare un mozzico no non gli posso dare un morso pensavo gli potessi dare un bel mozico minchia qua veramente c'è il serpente niente di camminare qua ehi wow è stupendo a me? è stoppendo ok bello vediamo cosa gli succede adesso vediamo cosa gli vuole vediamo se c'è un altro che mi vuole pestare non lo so si tira fuori le tette poi vediamo dazza hey need a lift it's too damn hot to be walking eh oddio è una scelta un po' particolare perché potrei salire però camminare forse è più sicuro è più faticoso però se non salgo forse sono più sospetto vediamo ah mi sa che minchia non dovevo salire mi sa beh il protagonista è sia lui che suo fratello quindi che jesus will save you e infatti questo è il camionista 100% vive proprio nel suo camion oh che è una figlia tipo ora si scopre che è il padre di Jen e scoppia la testa a tutti la donna sta morendo mi schia che che cosa succede a te a te mi rungo un po' di assos che mi non mi motivo ah Ah, vedo. Ci succede molto a qui. Hey Anton, sei qui? Tutti tutto bene? Si, cosa succede? GPS mi dice che sei che sei attrappato nel medio di nulla. Chiedi solo a sapere cosa succede. Ah, ah... Ho dovuto fare un stop. Over. Too much information, but... 10-4. Give me number 2. You owe me a beer for that. Over and out. Don't freak out. I... I wouldn't have picked you up if I cared about that hitchhiking law. Ok. Cool. Ok, lui mi sembra a posto. Oh. Però... si, dai, accettiamo. Mi sembra un tipo a posto questo. Grazie. Come ho ascoltato, mio nome è Anton. E' buono, eh? La mia figlia fa i migliori sandwich. Eh, messi. I migliori sandwich mai. Belli unti. Unzi. Anton. Anton. Certo. Vediamo se c'è qualche posto di blocco, qualche minchiata. Che comincia la canzoncina. Run. Qual è la tua destinazione? Hmm... Haven Point. Hai parlato? Oh, sì. Direttamente, circa un'ora. Minchia. Un'oretta sempre dritto. C'è un'oretta di macchina? Di camion in tenda? Quindi vuol dire che a piedi ci sarei stato tipo... quindici anni. Sarebbe uscito Life is Strange True Colors e noi eravamo ancora qui a camminare con... con Sean. Con Sean. se vuoi. Non devi restare awake per essere bello. Hey, non ti preoccupi, figlio. Non sono un... fucking weirdo. Solo un... boring trucker. Certo, il camionista però... tu ti metti lì, col tuo camion, guidi. Bello comodo sulla tua poltrona. Guardi un sacco di posti. Mangi, caghi. Conosci un sacco di bariste nei locali. quando ti fermi tipo negli autogrill. Magari... ci scappa... un caffè... tetta a tetta. di, l'intensi un sacco di rupto si avete fatto alla fine. Giorno. Questi è di un sacco di lieve. Saggò? Ok. Casi un sacco. Grande Anton Devo finire che questo ora Lo contatta la polizia Gli dice che mi ha accompagnato qui E siamo a posto Ora si scopre che qui è una Una setta Tipo ora Daniel sarà diventato tipo Gesù Lo faranno passare Tipo per Gesù E' un miracolo Lui è il nostro salvatore Se si apre il culto di Daniel Vedi X Ryzen Eh vedi lui è resuscitato Daniel è resuscitato Ho spero che queste persone Siamo a curare christianie Come i nostri grandparenti Che stanno facendo quei due No non mi dite che c'è già Scusa ma questo mi sa che l'ho perso Vero Sì perché qua c'è la chiesa Quindi mi sa che quello l'ho perso Scusa se vado di qua No Scherzavo Vabbè sicuro Ora tipo lo avranno eletto come Gesù Praticamente a Daniel E' diventato ora il messia Tipo farà i miracoli Farà tipo queste minchiate Oh Aspetta ma questa è la stessa Non mi dire che ci sono ragazzi altri come Daniel Bene Scusa back inside Ok dad Uh Hello there Is everything all right? Yeah yeah Don't worry You're here for the service? Uh Not really Looking for someone Don't be shy Everybody's welcome here No matter who you are Or where you're from In his eyes We are all equal Plus We have a pretty nice spread After the service Stay as long as you want Ok Um Thanks Don't thank me I'm just a vessel for our reverend Thank her Ha Looks like you're here to see our new miracle Right? Oh oh Uh What miracle? Ha You haven't heard of him? Then I won't spoil it for you Minchia Daniel Ora è il miracolo Vuoi vedere? Come inside And see for yourself Madonna Ora ora c'è tipo Collad E Chosen Vuoi vedere che ora Jake e Daniel Sono diventati tipo Dei fenomeni da baracconi Della chiesa Che fanno i miracoli Che fanno Non è il mio messaggero Non è il mio messaggero Ha 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 No Vuoi vedere che ora Daniel è diventato tipo Veramente il fenomeno da baracconi Ciao Crystal Porta sul retro? No Perché entro dalla porta del retro? Quello mi ha detto di entrare Sì e infatti il mio problema Il mio dubbio sorge proprio da questo Che Jake Era tipo un fanatico religioso E lui pensava che appunto Daniel dovesse essere Che ne so Una specie di Di prescelto Quello che era Quindi Il Chosen Scritto lì Alla finestra Sinceramente Mi Mi fa pensare Mi fa Mi fa pensare Minchia vuoi vedere che c'è Max? Eppure Max Non aveva Cioè Max Non c'entra Tipo con sta roba Perché Max Si riavvolgeva il tempo Ma Forse la bambina Quella bambina Che stava tossendo prima Perché la bambina Che stava tossendo prima Secondo me Era la stessa tosse Che aveva Daniel A meno che Boh Non si sa Eh non ho messo la gamma Stasera perché ho avuto Un po' di influenza Un po' di febbre Quindi sono 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 Impresentabile Stasera Non mi rispondo Non mi rispondo adesso No vabbè ma Sto Sto abbastanza bene Non Nulla di Nulla di preoccupante La bambina Si mi somigliava Aveva la stessa Aveva la stessa Tosse di Daniel Almeno È anche vero Che comunque Daniel non ha più avuto Tosse dopo essere Stato curato Dalla nonna Quindi Non so se effettivamente Quella era una tosse Legata al suo potere O se effettivamente Era una tosse Causata da Da un'influenza O qualcosa Del genere Nelle macchine Non c'è niente da vedere Vero? Eh effettivamente La sorella La sorella di Jake Effettivamente Oddio La sorella di Jake Quindi se quella Era la sorella Quello era il padre La polizia Che ammazza Su questo Capito Infatti Vedi È di Colle Denchosen Quindi Chiamato E scelto Però sono curioso Anche della porta del retro Perché si poteva Entrare Dalla porta del retro Che Daniel Sia lodato I tuoi amici La famiglia Bletti Oggi abbiamo visto Il figlio Il figliolo Miracolato Di Gesù Nella chiesa Del reverendo Fisher Non ci crederesti Se non l'avessi visto Con i miei occhi Daniel è proprio Un angelo Inviato dal Signore Ecco vedi Grazie Spirito Santo Per averci donato L'angelo Dall'angelo Daniel E' venuto Per ripulire Lo sporco E i peccatori Da questo mondo Oh porca troia Mi avevo sentito parlare E ora non dimenticherò Mai questo giorno E questa chiesa La reverenda madre E' davvero Uno strumento Del Signore Oh porca puttana Qua veramente Ora stanno venerando Daniel Minchia Quello che già I suoi poteri Vabbè Un picnic con Daniel Un picnic con Daniel 20 dollari 20 dollari A donazione Nooo Ora succede il casino Succede il casino Che ora Quello gli dice No non usare I tuoi poteri Perché Quello dice Ah ma io adesso Sono un angelo Adesso sono fortissimo Mi hanno trasformato Adesso sono diventato Gesù Succede la salvezza Dei tuoi Succede Poi potete Crossare Quella Invisibile Bridge Per la salvezza Succede Succede Vuoi che la tua Succede Succede Oppure Sua sorella E' malata E pensa Che Daniel La possa guarire Che ne so Tipo Ma che minchia Del genere Sinners Out there So I never Asked The Lord For a sign Then He Gave Me One He Spoke To me And told Me That I Was doing Right And to Reward Our great Faith The Lord Sent me The ultimate Gift An angel A child Graced With the Power Non ci credo! Non ci posso credere! L'angelo, Daniel! No! Gli hanno fatto il lavaggio del cervello proprio! Guardalo! Sì, Daniel è stato portato a me per aiutare noi, per guidarci dalla città, per il nostro destino. Ora Daniel, riuscirà il vero potere di farlo! Sì, effettivamente è un po'... Vedi, lo usano come fenomeno da baraccone! Sì! 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 Trissi! Behold questo miracolo! Sì, Daniel! Credo! Sono impazziti. Cioè lui basta che gli fanno fare queste cose e ora si sono fatti i sacchi di soldi e lo usano proprio soltanto come fenomeno da baraccone. No, 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 no. Però lui non è felice, vedi, perché secondo me Proprio gli hanno fatto il lavaggio del cervello Vedi, lo usano così Come fenomeno da baraccone Vedi, per le vostre gentili donazioni Ho visto il picnic O lo ricattano, o gli hanno fatto proprio il lavaggio del cervello Proprio, l'hanno Sta pensando a quanto sia caduto in basso suo fratello Ora è il momento di usare i poteri di Daniel E non per queste cagate Ma per far scoppiare tutto Questo lo faccio Ah, questa è la ragazzina Ciao Ora forse capirà il perché io l'ho sempre ammonito. Sì, io sono Daniello, ma ho bisogno di un po' di pomeriggio. La mia madre dice che sempre bisogna aiutare il nostro vecchio. Cosa hai bisogno? Chi è questa mia madre? Non lo conosci? È la mia madre, Lisbeth. Non becca mai. Cosa è questo? È la nostra casa, la nostra iglesia e la comunità. La madre dice che siamo tutti chiusi da Dio. Cosa ha fatto qui? È il nostro miracolo. E il Signore ha portato il giro alla nostra madre. Mi piace lui. È davvero bella e divertente. Abbiamo giocato tutto il tempo. Quindi... Puoi mi portare a Daniel? Oh, sì. Il sarà molto felice quando ti vedo. Il ti ha piaciuto molto per il suo bambino. È un bel sorriso. Chi era quel bambino? Vedi tutte le donazioni? Sei il vivente proof della loro fede. E la mia. Sì, lo capisci. Lo capisci. Sembra tipo... Sembra proprio confuso. Guardalo. Sean? Oh, mio... Sean! Tu è venuto! Lo capisci! Lo capisci! Tu è cresciuto e lo capisci. Mi sembra più vecchio? Cosa? Cosa sta succedendo ai tuoi occhi? Sperate. Sei cal громко. Cosa? 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 Sperate350mente? Si è perdita uno al watched nucleio? sei troppo. Sperate rupe. Ora saperebbe. Non era il tuo mentale. Ilạn che... Si è ok problema. Cosa è dolore? Guaidì. Si pagunemi. Non tanto come il tuo peccato. Abbiamo ancora bisogno di andare a Porto Lobos, ma non bisogna. Abbiamo una nuova casa ora. Guarda! Un passo a un tempo, Daniel. Dice Sean una chance di processare questo. Sto sicuramente questo è tutto così... ...overwhelmante. Perfetto, il mio nome è Elizabeth Fisher. Abbiamo tutti chiesto per la tua sicurezza. Sean, dovresti essere un believer in il nostro Signore, anche. No... ...non davvero. No. Quindi Daniel è stato vero? Tu puoi essere sinceri qui, Sean. Ma prima, ho bisogno Sara Lee e Daniel per prendere la medicina. Abbiamo bisogno di prendere il nostro guest. Questo è un posto di cura. Awww. Vediamo poi. Voglio parlare con lui ora. Daniel? Ora. Ok, Reverend Mother. Let's go, Daniel. Cioè, guarda come le obbedisce. Beh, Sean. È un piacere di trovarti. È una vera benedizione oggi. Lei non lo vuole tra i piedi. È un po' di più. 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 Quindi, qual è il tuo planno, Sean? È una famiglia di riuscire. E sarebbe bello per Daniel che ci abbia a lui. Bose. È una famiglia di diralmmo. I ragazzi non sono una famiglia. Mark 3, 25. Se un'altra casa è riuscita contro il suo, quella casa non può restare. Daniel sembra più come un giocatore che un guest. Mi preoccupa di vedere cose così, dopo tutto quello che ho fatto per lui. Sento perché sei scusato, Sean. È perché il tuo cuore è pieno di pezzi. C'è lui mi ha segregato in casa e io l'ho picchiato che è un peccato. Mi sono scusato, mio figlio. Non sono il tuo figlio. E Daniel non sarà il tuo cuore! Daniel? Come va! Noi chiedi lui cosa vuoi fare. Do not touch me! Ah! What the fuck? What did you do? Nothing! Enough! You spilled blood in the Lord's home. Sean! What happened? Your brother came in here impure and acting like a criminal. But he can be saved, Daniel. I'm sorry, Sean. She's right. I will pray for you. Oh, Gesù. Ben, when you're ready, we can. She's trying to manipulate you. Let me lead you to the one true light that never goes out. I want to be your friend. You're crazy! Let's get out of here, Daniel. I want to stay. Just go. There's your answer, Sean. We're together again. So we can go, right? Come on! Get off me, dude! What? Daniel! Let me go, asshole! Daniel! They're not your family! Stop it! You just need to have faith. Keith, we'll be waiting. Daniel! It's okay, Sean! Daniel! Che coglione! Va bene, ok. Ho provato, ho provato a... A posto. Come on, kid. Don't make me do this. You're not gonna win. Mh, kid. Vabbè, che bella chiesa comunque, ha! Complimenti. Daniel! Daniel! Ah, you're pissing me off! This is private property. I have a legal right to stop any intruders! Like you. I... Just... ...want... My brother. But he... non vuoi te vuoi. Si è stato portato qui, e questo è dove sta. La prossima volta, non riesco a usare questo. Ora, fuori da qui! Daniel, hey! Daniel? Sean? Che è Jake, questo? Ah, no. La madre? Let's go. Ma, è la madre! Oddio, adesso comincia lo stratagemma per salvare Daniel? Con la madre? Adesso forse si sapranno un paio di cose. Vuoi vedere che lei faceva parte di questa comunità, o comunque aveva qualche legame con questa comunità? La madre? La madre? O che è? O che è qui? Come hai trovato? O che ho trovato? O che ho trovato? Vuoi vedere che anche lei ha i poteri O qualcosa del genere Che è immischiata con sta situazione Cioè per sapere Boh non lo so Beh la madre Sì vabbè magari è perché Ha questo taglio di capelli corti Uno se la immaginava tipo Un po' più sofisticata Ma in realtà Non è tanto diversa da come me la immaginavo io No ma in realtà anzi Jacob ha fatto un buon lavoro Perché ha protetto Daniel E' vero che l'ha messo lì Però comunque ha avvertito anche la madre E quindi Ecco tutti i segni Di quelli che mi hanno picchiato Potrebbe essere scappata Per non farsi magari rinchiudere Là in quella comunità O una cosa del genere Cioè ci potrebbe stare Tranquillamente come ragionamento Beh è finito lì per colpa sua Ok però meglio lì Che è morto Quindi Va bene Ok è finito lì È un casino Sono d'accordo Però l'ha protetto E poi ha avvertito la madre Cioè ha anche detto alla madre Che Che era in pericolo Quindi va bene Cioè non è stato così tanto stronzo Cioè in fin dei conti ha protetto Daniel E' poi colpa dei genitori Che Daniel è diventato Praticamente il loro burattino Eh eh Cambia la medicazione Minchia ora qua ci saranno Qua ora ci sarà il mega spiegone Di cosa è successo Di cosa non è successo Perché se n'è andata Minchia qui adesso scoppia la testa Preservativi Pot Damn Karen does like to capture the world around her Sono sempre più vicino Il mio cuore è impazzito Fa male Ora ricordo Ricordo ciò che si prova Non posso ignorare questo battito Mi spezza in due Spezza la mia essenza Depressione mattutina Caffè Camionisti stanchi E famiglie tristi Uova terribili Non è colpa della cameriera E una che va di fretta Starà per finire un lungo turno di notte Cartellino dice che si chiama Clementine Sui 22 anni Rossa tinta di castano Le sopracciglia e il tono della pelle Non mentono L'angue irlandese Sarà la figlia del proprietario Mahonis Sorriso gentile ma sopra pensiero Un po' maldestra Sempre distratta Nervosa Il giovane cuoco l'ha appena chiamato Clemmy Sarà il fratello Il fidanzato Il fidanzato Si scusa sempre quando gli ordini Quando gli ordini arrivano in ritardo Ma tanto la colpa se la prende lei Papà e mamma Sanno che esci con un collega Clemmy E' meglio non mischiare mai il lavoro con l'amore E' una gravidanza quella che si intravede sotto il grembiule macchiato E' il 2017 E i giovani fanno ancora i figli Non cambia mai nulla Ok Sì ma preservativi per cosa Ah Giustamente E' imparato la lezione Secondo me la madre ha qualcosa La Bibbia La Bibbia Quindi qua dovrebbe esserci il souvenir Perché C'era l'indizio del souvenir Eh vedi Eccolo Preso Tablet Fa un po' fatica Con troppe app aperte Ma dovrebbe andare bene Per ricerche base E geolocalizzazione La password è 11 2708 Spero che tu riesca A trovare tuo figlio Ah Quindi potrei utilizzare un tablet Messaggi di Karen Può essere Ragazzi Non lo so Sono uscito Sono uscito a comprare un po' di cose Ti prendo anche qualcosa da mangiare Se per caso ti viene fame In bagno troverai dei calzini E dei boxer nuovi Sono tutti tuoi Se ti vanno bene Dovresti chiamare Jacob Trovi il suo numero Sulla lettera che mi ha spedito Torno subito Care Gentile signora Diaz Gentile signora Diaz Mi chiamo Jacob E ho lavorato con i suoi figli Sean e Daniel in California Ci sono stati dei problemi E Sean è scomparso Adesso sono con Daniel A Evenpoint in Nevada Mi ha dato l'indirizzo Di questa casella postale Quindi ho deciso Di scriverle questa lettera Ah Quella che abbiamo trovato Dai nonni Penso che Daniel Sia in pericolo Dobbiamo aiutarlo Ad andarsene da qui Mi chiami a questo numero La prego Faccia presto Vedi Può essere che Jacob In realtà Non voleva darglielo A loro Quindi Chissà anche dove è Jacob Perché Jacob Non l'abbiamo incontrato Quindi Non è Cioè noi non l'abbiamo incontrato Quindi non possiamo sapere Se effettivamente A Jacob L'hanno mandato A cagare Dopo che gli ha portato Daniel E hanno trovato La loro gallina Dalle uova d'oro Quindi potrebbe anche Effettivamente Essere Jacob In pena per Daniel Sapendo di averlo lasciato lì Senza 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 sapere Cosa effettivamente Senza sapere effettivamente Cosa è successo Ah vedi Posso disegnare Top Momento disegno Ci sta sempre Poi dopo Chiamiamo Jacob No ma ora bisogna vedere Che cosa succede Con la madre Io sono curioso Della madre che torna E parla Dicendo Chissà che cosa succede Allora la scelta finale È La scelta finale C'è Allora sicuramente Ci saranno finali Che coinvolgeranno La morte di Daniel La morte di Sean O la salvezza di entrambi Sicuro Se non addirittura La morte di tutti Proprio come finale Ultratragico Per forza Perché da sta situazione Non se ne può uscire bene Ma che è un drago? Ah no È tipo un Kraken Un po' Sì Un Kraken No No Queste cose no Felpa Nello zaino Penso che ci siano Ah ma non ci devo chiamare Da qua Dove ci dovrei chiamare Dal telefono di casa? Eh sì Ma per usare il tablet Benvenuti alla nostra nuova vita Andate dunque E ammaestrate tutte le nazioni Battezzate Un messaggio dalla reverenda madre In quanto pastore della nostra santa chiesa Ho dedicato tutta la mia vita Il mio amore agli insegnamenti del Vangelo Ah praticamente hanno proprio una sorta di blog Lei non pecca mai comunque Ricordiamocelo Ecco vedi a far convivere lo spirito santo con il santo denaro Santo denaro I membri della chiesa Che si è unito di recente All'inizio ero un po' scettico Ma poi ho assistito a una delle sue messe Riuscivo a sentire l'elettricità nell'aria Quando parlava lei la gente piangeva E anche io Due stelle Nice pool but dusty as fuck Beds are super uncomfortable But is cheap Cool stuff Ha due stelle sto motel Vabbè ci sta Messaggio di Karen Lettera di Jacob Aspetta Ah sì vabbè queste le ho lette Time to hit up Jacob Chiamiamo Jacob Che altro per capire anche se mi risponde dov'è lui? Jacob? It's me Sean Sean? No way I've been waiting to hear from you for months See You found my note in your sketchbook? Yeah Where are you? You have to come here Sean I know I'm not far In a motel Good Listen I can't talk right now I gotta go Wait Daniel How's he doing? Meet me tomorrow afternoon On Brandy Highway There's a junction Just above Haven Point There's a Wild Mice Ranch billboard there I'll be there At four Jacob wait I can't talk Sean Be there tomorrow Forse Jacob Si vuole Ribellare a questa cosa Perché sa che è sbagliata Visto che lui comunque Magari per Magari con una cosa simile Hanno fatto male a sua sorella Quindi bisogna vedere Effettivamente Ok Aspettiamo Karen Adesso Vediamo che succede Di tornare deve tornare Per forza Ha lasciato tutte le cose qui Vai che ora si scopre Tutta la verità Ecco Hey Sorry it took so long The fucking store was packed How you feeling? Nothing broken? Alter boys don't fight fair Yeah I'm okay Double cheese No onion Right? That'll do Bravo Non fare lo stronzo Hai perso già tuo padre Almeno tua madre ce l'hai E pur sempre tua madre Mai giudicare Prima di sapere le cose Ehm Antibacteria Per il tuo occhio Hey Non lo spettacolo O almeno Prendi un respiro Come tu Care Sean I do Come on Karen Don't act all hurt It's too late Where were you When I broke my leg When I was 13 Not with me When Daniel Got a bad flu A couple years ago He didn't sleep Next to him Every night Where were you Where Were you Fair enough So let's talk Because we do have to get your brother Out of a cult Esatto How did you two survive alone On the road for that long Beh ce l'ha insegnato papà No Ci hanno aiutati Neanche più di tanto We almost didn't We just Kept moving And nobody helped you along the way You know I don't have to answer your questions right You're right So tell me what you want from me Sean Nothing Karen I mean what do you want from me A fucking hug Hey I just want you to know what I did And why If you care So Ask me anything Alright Why did you bail on us I wasn't meant to be a wife Or a mother I thought I was supposed to I tried to pretend for many years But I wasn't happy And the urge to leave Just became unbearable I had no other choice Are you serious You chose this life You fell in love You made your own choices Right Making your own choices Doesn't mean you can never Fool yourself Sean After I had Daniel You were about eight And Esteban's garage was getting busy There was so much going on around me Yet somehow I just Felt that my own life Was just slipping away I felt like an empty shell Sean It was the hardest decision I ever made I knew I might never see you all again But I took that responsibility Ah To talk to you Did Dad know about all of this I was honest with your father We did family therapy But it wasn't about him It was me He was heartbroken for months After you left Years I was too I was in love with your father He was the best person I ever met But just not enough for you Something was missing from the equation Yeah I was So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No I'm way out in Arizona Sean I told you Your friend Jacob Wrote my P.O. box And said Daniel was in trouble That's it Arizona? Holy shit It's just lizards and rocks Guess I found something there New York didn't really do me good, so Yeah, okay Think I've heard enough I didn't have a choice, Sean We only have one life And I didn't want mine to be spent in regrets For years I fooled myself Thinking I'd find satisfaction Into what society expected me to be And that was my mistake I hope someday you can understand that But I never stopped caring about you For what it's worth I am sorry for hurting you and Daniel And Esteban I know who you are, Karen That still doesn't change the way I feel Of course not I know I can't change the past, Sean I don't think you would I need some air But I don't think you would Oddio Pensavo a qualcosa di molto più serio in realtà Invece era proprio lei che Ha avuto una crisi praticamente Cioè A posto della menopausa Ha avuto Non lo so Un'altra crisi Cioè Boh Ha avuto una crisi Va Mettiamola così Sinceramente Mi aspettavo qualcosa di Di più serio Cioè Per abbandonare una famiglia così Difficile che una madre Abbandoni i figli L'ho sempre detto Cioè Sean Oh Whatever you want to say to me This is the time Let's just Get it all out in the open See what happens I mean I get you wanted to leave and stuff Okay But why would you ghost us like that Not even a fucking birthday card I just I thought if I vanished You would all move on But I wanted to contact you guys so many times I almost did But you wanted a clean break from us I didn't want to be a part-time pissed off mother Not fair to any of you I left when Daniel was still very young So he wouldn't remember me Cool plan mom You hurt Daniel way worse He thought you took off Because of him I know I hope I can make it up to you Daniel Someday I can start by getting his ass out of that church Cult Whatever Se tu dici che sei Che sei la madre Cioè non ti possono tenere tuo figlio messo lì So What did you do when you left Where did you go I pursued some dreams And failed Learned the lessons I guess all this time I tried to find out what really matters to me Which doesn't involve a husband and two kids It does to a lot of people And I totally respect that Just not to me I wasn't good at making plans Which is what most of modern life is about right School Job Marriage I asked my mom and dad They wanted me to follow their rules Their faith I tried But I wanted to find my own way With no security blanket Family Family Religion Social Norms It's just all about security After all But it all just looked like a sweet golden jail to me I tried to escape that Ce l'ha un po' di Daniel Come carattere no Che Che in realtà Diciamo che le regole No Le imposizioni Che anche io Nelle scelte che ho fatto Yeah Hope it was worth it It was For now I've found my place in the world With like-minded people I'm at peace With my fuck-ups And my decisions How do you make peace With bailing on your parents Your husband And your kids I know That's hard to understand But I think people should know who they are And not fake it For anybody So Did you ever actually Miss us Or dad Of course Sean I do miss your father He had such a big heart He could brighten up a rainy day That was like his super power But above all I missed watching you grow up See how you saw the world I missed sharing these moments with you Sean We used to do so much stuff Like when you taught me to ride Because dad sucked Or when we went camping near Vancouver Just me and you You always loved night skies I did stargaze a lot When I was in California Trust me The further south you go The better it gets Whatever Vedi? Qui mi sa che noi stiamo legando Forse con la madre It's like you can't even realize How much pain you've cost I do care That's why I'm here To help you And your brother If I didn't step up To help him now I couldn't live with myself No man Esteban hated when I smoked He didn't want me to die In early death Fuck Life can be so cynical sometimes I remember he would smoke sometimes Long ago We didn't fight much But when we did I would go out on the porch And light up So I could calm down Esteban would come over And ask for drag Now we just look up at the sky And watch the stars Or the planes Quindi forse gli avrei dovuto chiedere una sigaretta I used to do the same with my best friend Lila Sitting on the porch Just letting time go That's when you know someone is a good deal When you can just sit together Shut the hell up And watch the universe Do its own thing Mi vedi qui c'è praticamente E' stata modificata Come il classico momento riflessione Dove tu ti siedi Come faceva Max Nel Nel primo E quindi tipo che si sedeva Rifletteva sulle cose Qui è stessa identica cosa Wi-Fi 37 TV Vedi però facendo queste scelte Io penso comunque di essermi Avvicinato di nuovo Alla madre Cioè non l'ho respinta Secondo me questa potrebbe essere Una cosa interessante Perché Una volta che hai perso il padre Però la madre c'è Va bene che non vuole essere tua madre Perché comunque non voleva Però è sempre tua madre I know I can't change the past Or what I did But this is about helping your brother You gotta trust me this one time I know It's still hard But yes We have to be a team to rescue Daniel We can do it Ok Ok How We need to get in touch with this Jacob He obviously knows a lot more than us about the church Wow I called him when you were out We can meet with him tomorrow Ok good I also got these Just in case Hmm Ok Better take care of the eye Ok So Do you need me help with that? Yes Thanks So You feel like telling me the story here? When we have time Gotcha Go 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 posso fidare neanche di mia madre è finita tanto vale che prendo e mando tutto a puttana posso capire tutto quello che posso capire che li ha abbandonati posso capire che lei ha avuto la crisi posso capire che lei doveva andare via posso capire tutto ma se addirittura non mi posso fidare neanche di mia madre è finita va bene che il fratello è bambino tutto quello che vuoi però ma come si suol dire la mamma è sempre la mamma cioè e almeno per come la vedo io il fatto che lui abbia perso il padre però abbia recuperato o per meglio dire possa recuperare il rapporto con la madre penso che sia importantissimo lei non li ha abbandonati per cattiveria lei non se n'è andata per cattiveria o perché non li voleva lei ha avuto una crisi e se ne è voluta andare ok però è stata onesta bel pirata e di lui non la chiama mamma però ripeto è stata onesta non ha cercato scuse io io fondamentalmente apprezzo questo c'è il fatto che lei abbia detto dice no io me ne sono voluto andare ho avuto una crisi non non riuscivo ad accettare io lo accetto è difficile perché comunque non ci sono passato fortunatamente in questa situazione io i miei genitori fortunatamente li ho avuti insieme fino a quando è stato possibile quindi c'è non è che però io ho paura che però facendo così sto coinvolgendo la madre quindi potrebbe finirci di mezzo anche lei non ci sono E' sicuramente... ...speciale. Spero così. È il tuo fratello, certo? Ripeto, non l'ha fatto con cattiveria. E' lui? Sì, aspettiamo qui. È vero che ha abbandonato i figli, ma lei li ha voluti abbandonare... ...per evitare... ...illusioni. Jake, non sono freddo, ma dovresti raccontare tutto. Non sapevo dove andare. Sì, ho visto Daniel arrivare al camp quella notte. Era in sciocco o qualcosa. Sì, ho sento tutti questi sireni e... ...sì, mi sono freddo. Mi sono fatto un po' di cose, ho fatto un po' di casa, ho fatto un po' di tante, e... ...le partiamo insieme. Sì, ho guardato il cash che hai fatto sul farmato. È in il mio carro. Sì, è vero, Jake. Sì, grazie. Non ho capito cosa sembrava quando l'ai trovato l'amore, Sean. ... ...se ne era andato apposta da qui. Sì, questo è quello che fanno qui, le prendono le persone in. Sì, non vogliono prendere le persone in,昨 giorno. Sì, sto dicendo a te... ...il bisogno di essere attenzione con la mamma di reverend. La mia madre ha aspettato la sua vita per qualcuno come Daniel. Il reverend ha capito di manipulare le persone. Lei è buono a questo. Il vuole che resta con lui. Daniel ha la fede in il reverend now. Hai ancora cercato di farlo? Sean, stop! Perché credo che io scrivo a tua madre? Come on! Non c'è nulla modo! Non c'è nessuno che ti prendi lui. È molto male. Non ci chiamo per la permissione. Tu devi essere Jacob. Io sono Karen. Ciao. Ok. Non so se vuoi fare questo. Ma ho un'idea. Credo che la scuola deve essere finita per ora. Ma Lisbeth sarà a la città con Daniel per i suoi classi speciali. Ciò ci darà il tempo di spiegare in il compagno prima di arrivare a loro. Io sarò sul rischio. Guardate, in caso tutto si va a freddo. Sean, resta in Milwaukee. Sui come un plan. Una cosa più. e io... uh... abbiamo bisogno di prendere mia sorella Sara Lee davvero, Jacob? vieni, man è con i tuoi amici io lo so per favore, sanno non è sicuro qui è morta loro credono in tutto che dice e dice che sarà cura Sara con le prezioni io lo so che capisci certo? damn, Jake bisogna anche lui, Sean ok, Jake sto ascoltando Lisbeth sa cosa è vero con Sara Lee abbiamo bisogno di trovare la ricorda medica credo che sia nella nostra casa poi andrò a prendere Sara Lee mentre ti prendere Daniel ok? bene bene sicuro ti credo ti credo è tutto per te Karen cosa se Daniel non andrà con te? lo so lo so lo so eh lo farà non ne sono tanto sicuro posso utilizzare la scusa che c'è la madre per farlo venire con noi perché lui aveva il desiderio di conoscere la madre quindi se magari gli diciamo che io sono venuto qui con la mamma con la madre lui incuriosito dalla voglia magari di conoscere sua madre può effettivamente ascoltarmi ok 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 Karen I'm in place, I can see the whole camp Let me know if you need anything Be careful, Sean Got it, thanks We gotta be careful now If anything happens Let me do the talking, okay? Yeah, of course Let's get this over with Minchia Ah, dietro la chiesa è quella dove abbiamo bussato praticamente l'altra volta C'è poco fa Watch out, Sean There are people right outside Oh, shit How many? Just three A man with his kid on one side And a woman alone on the other Got it, thanks Allora, aspettate un attimo che io Mi vado a prendere l'acqua Che ho finito l'acqua Che se no non posso bere E torno subito Allora, Thank you You Allora, thank you You Grazie a tutti. 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 In live... In live dobbiamo essere educati. Dobbiamo essere puliti. So... Giustamente... è... Ok... è... è... Allora... le chiave... Ambulatorio... la candida... la... 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 fac... di... di... dopo ogni... potrei usare... la... 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 ... che stai cercando. Daniel è stanco dopo aver usato il suo dono, non c'è niente che gli faccia recuperare un po' d'energia. Una nuova dieta? Fa sempre di testa sua, non segue le scritture, più preghiere e più studio. Daniel oggi ha messo il broncio dopo le lezioni, se lesinate la verga viziere del bambino. Non ancora, devo essere tollerante e credere nel signore. Oggi ho pianto alla vista dei miracoli, il bambino è una forza e per forza un messaggero. Cosa ci porterà e quando? Oh, una chiave. Sarà quella giusta? Cosa? 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 Cosa. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo, mostrati dunque Zelanta e Rabbedi. Apocalisse addirittura, i versi dell'Apocalisse. E' vero. E' vero. F***. E' vero che ero. E' vero che ero. Daniele. E' vero. L'amore di tutti i nostri. E' vero che ero. E' vero che ero. Braccialetto di Finn? Ah... No matter what happened... I guess Finn was a real friend to Daniel. The book of Daniel... So much for hot dog, man. They're so cute. Oh! Raccogli? Perché raccogli? Perché raccogli? What is this? Daniel Fisher? Oh no... No, that's total bullshit. And creepy. Museo delle Ferrovie del Nevada. Fa un viaggio nel passato. Ah, l'hanno chiamato Daniel Fisher addirittura? C'è proprio addirittura il cognome cambiato. Aspetta, io voglio vedere se quello è un souvenir il disegno. Holy Bible... Holy Bible... Eh, infatti souvenir. Oh! Oh! Questa è abbastanza il cambiamento da Powerbearer e amici. Cioè io che sono il fratello... Inizio, ovviamente. Scoperto. Magari si apriva l'altra porta. Ma non credo. Se non apre questa non penso che apra quell'altra. Non romperla. Non pensavo fosse quella giusta. Troppo facile. La polmonica. La polmonica. Ok, ho qualcosa. Deve essere quello che stai cercando. C***o. Ha una polmonica? No, la polmonica. E per quello che ho ricevuto, Elisabeth conosce davvero bene. Ha bisogno di trattamento medico. Questo è criminale. Questa è incredibile. Guarda. Ha una fila sul tuo. Tu puoi vedere un pollo. E vedere come si tratta la sua flock. Cosa è tutto questo? Cosa? Cosa? Converso la terapia? Perché... ... ... ... ... ... ... ... ... Ma perchè era omosessuale? La conversione addirittura Oh La conversione addirittura La conversione addirittura Chattano Lysbeth does believe in all of this stuff I had no clue about your life here I'm... I'm sorry Jake I'm sorry I brought Daniel here I was just so blown away when I saw what he could do It was like a real miracle I thought I'd... I'd found my faith again Instead I... I just hurt him Then let's make things right We just have to get Daniel out of here I hope so And I'll get my sister to a hospital Have her treated I hope they'll help her Yeah Anything would be better than here Right I just hope they can still cure her Certo la polmonite Non è gravissima Però deve essere curata What's up? You've got company That dog who works with Elizabeth He's just holding some files Doesn't seem to be on you This guy... Is dangerous Sean Hey I have a good plan To get him out of your way He'll give you more time Just give me the word Mmm... Va bene Yeah See what you can do I will... Get ready Sean We gotta hide Now Intanto chiudi qua l'armadietto Perché se no vede... Scusa ma... Oh levati cretino Come on Sean We need to hide Non possiamo aprirlo Eh we need to hide Maybe he finds us here We're screwed Ah Che cazzo sta facendo? Che cazzo si è messo dietro la porta quello? Ma che scemo No vabbè non penso Voglio avvertire Lisbeth Minchia meno male Madonna potevo sbagliare armadio Avrebbe stato un casino Oh Ah questo è il piano suo invece vedi A quest'ora mi avrebbe aziccato Che culo meno male Cosa stava cercando qua The fuck? What is it? I think that's the file Nicolas had Take a look What? Is she trying to adopt Daniel? Exactly And she's doing it under the table of course Man Okay We shouldn't be here Are you ready? Only random stuff Eh scusami ma Jacob Ma dove dobbiamo uscire? Oh god Ma dove dobbiamo uscire? elevate ilton e ora il problema è riuscire effettivamente a a prendere dene forse devo andare l'entrata da retro mi serve adesso forse chiusa ovviamente qua ci sono ancora quelli la no non credo perché sono andati tutti sono andati penso tutti lì all'incendio giusto e minchia che è quella entra veloce so you know what you can do ma è lei oddio mi sono cagato mi sono cagato let your power speak through this young vessel i am your humble servant and will obey the hell is this every command speak to me it's daniel speak i told you he's kind of special hey sean sean you came back and i know little cub come with me daniel we're leaving i'm sorry sean i can't she's full of shit dude and she's using you daniel has made his choice sean but i'm offering you to join us again put your faith in me and you'll be family never so that's your final decision may the lord have mercy on your lost soul it's time for you to leave our sanctuary right now not without my brother i'm not going anywhere this is my home she's my family now daniel listen she's not your family sean who is she our mother she came here for you oh praise the lord oh e ora si un altro miracolo si si ora come la mettiamo all right daniel go see her i mean she's right there don't be afraid i don't know her of course i know this is hard for you this is hard for you my son stop calling him that you're just manipulating him you sicko that's in the eye of the beholder but since you are his mother let me ask you how could you let your child wander alone in the wilderness where were you when daniel was lost where listen daniel i came here as soon as i found out you were here on your own i'm not on my own children are a gift from the lord they are a reward from him you were blessed with a divine gift and you cast him out into the world who the hell are you you might have been his mother once but when you abandoned him you also gave up your rights isn't your god all about forgiveness you have no idea what the bible says how can you pretend to care about these two children you left them and your husband to seek out your base desires daniel honey she's trying to trick you please think by yourself you're smarter than this daniel she's responsible for what happened to your father you don't know anything it was an accident that's what this world is about accidents injustice pain i'm just so sorry daniel i know i know how much i hurt you and your brother by me i know it's not enough col fatto che ho fatto venire mia ma la madre qui secondo me talk about together that's what i've been trying to tell you father and i'm so glad you listen to you got to trust us con il fatto che la madre vedi or stretto il rapporto daniel mi raccomando non fare cagate perché sto colpo ti uccido veramente ti accoppo cazzo that's right you can't tempt daniel from this garden he'll stay with us his true family and we'll never leave him go to hell come on daniel no un'altra volta ora prenda fuoco tutto reverend are you ok nicholas they're they're heretics sent to desecrate our our church ok what now don't you understand this is over sean you have to talk to him you can convince him sean i won't leave you daniel not here don't be so stubborn sean your brother chose his path your friend sarah lee she's very sick and lisbeth won't take her to a doctor what she wanted to do that this is pointless daniel knows who to trust i know she went to see doctors for herself when she was in pain she never waited for a miracle when she was in danger what is that is that true reverend mother have faith in me daniel i know what i'm doing god is speaking to me and so la sua candida she's doing paperwork to adopt you and change your last name in anu dad's name are you ok with that what i no i didn't know is that why that card said daniel fisher of course not he's making everything up don't believe his lies daniel i've seen your homework daniel copying lines over and over how can you accept that this is worse than school it's for my own good to clear myself from all the things i did before see what you have done hey and i know back off no one is going to keep me away from you i said stop ecco la non fa niente don't i came all this way for you and nobody will stop me i'll even cross hell or whatever if i need ah sean he must learn listen i did my best job to be a good brother and i know i probably failed i took you for granted i put you in danger and i'm sorry i'm sorry don't listen to him he left you just like that harlet did shut him up he can hit me as much as he wants i won't give up on don't let them do that daniel don't let them do that daniel no no i can't do that all i can do now is quiet what are you waiting for we're the best team in anu stop it we have to keep going no what are you doing please he's my brother you can burn down our church but not our faith daniel knows you're telling the truth don't give up devono 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 convincerlo devono convincerlo devono convincerlo loro nothing nothing is gonna stop me daniel we're brothers daniel dad always said our blood link was the most important thing you know please please stop please 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 listen to him c'è a me mi ha scaraventato via più di una volta per per le minchiate a questo coglione ancora non l'ha buttato in mezzo al fuoco i'll come right back again and again i love you daniel i do too she'd shut him up now don't move just stop if you want to kill me then do it i'm not afraid do it shoot don't ah shoot me in the face and live with it now stop daniel sean i'm sorry sorry i was so confused thought she was someone else i'm sorry shot we need to get out of here we need to get out of here to have you to be the one to be the one and then Grazie a tutti. 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 Perdonato per cosa? Grazie a tutti. 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 Il carcere. Ah, è il muro. The big wall. Quindi sono arrivato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. l'unico. perché... non... oggi non sono... vorrei andare avanti. però mi dispi... da un lato... però alla fine... è venerdì... anche perché... le lezioni... in didattico... a distanza... staciamo... e poi... non ne prendo... per selfie... no... materialmente... buonanotte... spero...